Sono Vincenzo, un ragazzo del servizio civile, il progetto Franco Basaglia. Siamo qui con... Enroni. Ciao Enroni, buongiorno. Senti, a seguito del virus, come siamo contati a dire che ho provato in vita? Le famiglie sono contati che dobbiamo tutelare gli altri. Sì, sì. Siamo iniziando a cercare di proteggere gli altri e di proteggere la nostra. Sicuramente. Senti, cosa c'è per cercare quei esigenzi a ore? Una spalla di valore, come posizioni artistiche, la famiglia, le passioni, il lavoro, l'obbio, la famiglia all'ultimo agosto. Sì, in seguito, il lavoro e i giorni. Sì. E cosa hai deciso di cambiare nella tua vita? Perché non andava bene. Eh, lavorando nella ristorazione, che sei un giorno che lavoro nella ristorazione, ti darai più i gatti, quindi dopo caldo un po' il modo di lavorare, un po' cercare di proteggere gli altri, però non creda, non ho capito. Va bene, grazie Enroni. Senti, ciao, buongiorno.